Ok, voglio mostrarvi un piccolo segreto che mi ha svelato un ufficiale dei Ranger americani lui diceva sempre sai, quando hai fame alle 4 del mattino se apri un pacchetto di patatine puoi svegliare tutta la città tutti conoscono il suono di un pacchetto di patatine e quindi... beh, ve lo mostro non ho un pacchetto di patatine ma ho del velcro e facciamo finta che sia questo il suono che vi farà sgammare la notte e... quindi lui mi ha insegnato un metodo per aprire qualsiasi confezione di cibo così che se la fai nel modo giusto non sveglierai nessuno ok, ed è molto veloce ho chiuso il velcro come se fosse un pacchetto di patatine e questo è quello che mi ha insegnato ah!